Bello ragazzi, se non lo sapete io sono in live tutte le sere su Twitch e probabilmente non lo sapete perché ho la media di uno spettatore barra due a live e spesso e volentieri mi becca anche dei commenti del tipo se ho fallito vai a lavorare ma ragazzi io ho da anni che faccio contenuti sul web dal 2015 ed è una grande passione che coltivo da tempo abbiamo raggiunto tanti obiettivi, tanti milioni di visualizzazioni, purtroppo sono poco conosciuto ma andate tranquilli che questo mi potrà fare altro che spingere con fare contenuti sempre di più alta qualità e impegnarmi e visto che spesso gioco anche forte mi chiedono quanti anni hai? ma giochi a Fortnite? ma sei un nabbo? si è vero ho iniziato a giocare in stagione 2 che non sapevo fare neanche 90 però non ditevi che mi sono qualificato all'FNCS e che per un player amatoriale è tanta roba i più simpatici poi sono quelli che mi fanno ma sei pelato? mamma mi ha fatto così tu stai facendo body shaming questo mi fortifica ancora di più basta noi andiamo avanti